Mi chiamavano così? Uno, due, tre! Danci auguri a te! Danci auguri a te! Danci auguri al baron! Danci auguri a te! Auguri! Auguri a ragù! Quando fai dieta dieta, come fa tuo marito? Fammi vedere come passi! Passa! Ecco come passi! Mamma mia! Non lo metto su Youtube? Non lo metto! Questo per i coreani vedono! Ma anche i italiani vengono! No, no, no! Amore, questo quanti giorni hai fatto? Ieri! Ieri mattina? Ma... Siete accontentati di questo? Perché il resto non c'è stato più niente! Io... Ma facevo pure io! Questo invece che lo fai amore? Questa qui è la faraona alla cacciatura! Ma! Comunza... Comunza... Seve i're au canto! E' la faraona alla cacciatura! Ma tea! Seve i più potenti... E' la faraona... E' la faraona... Questo il soco con il funghi... Ma... Stai da un pochini E poi ci metti dei peccini Pongi porcini Porcini Ma questo è stato fantastico Calciope Art choke Caleciope E questo è il romano? E il giudeo? No, sì Ma non è la romana, ma prima di ultimi anni Ocabito! L'unico che è ancora grande. Ma bella è per traio! Mari! Buongiorno! 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 Sì, siamo andati a tutti i nostri amici, e il vostro amico è il vostro amico, Merchedeis Meri. E il vostro amico è Merchedeis Meri. Merchedeis Meri. E il vostro amico è il vostro amico. E il vostro amico è il vostro amico. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Il vostro amico è avanti. il nostro corso tagliare il nostro corso e . . . . . . . . Grazie . . . . . . . . Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. 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 Yeah, yeah. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.